ciao a tutti sono io l'agente topolino e non crederete mai a quello che ho visto nel parco dei pulcini giganti dei grandi pulcini molto molto carini ma dei pulcini così grossi potrebbero cacciarsi in grossi guai chiamerò rinforzi col mio scarpa telefono segreto le acchiappa tutto arriviamo io sono la detective milly con le mie capacità analitiche scopo e interpreto gli indizi agente segreto paperina con i miei congegni da agente segreto rendo possibile ogni operazione e io sono capitano clarabella con la mia super forza posso mu avere qualunque cosa insieme siamo le acchiappa tutto vai vai acchiappa tutto vai 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 la casa di topolino a disney junior